E' resiliente anch'io, siccome non ho tre mani faccio un gestaccio. Non vorrei perdermi nulla per cui mi sono scritto un po' di cose. Allora, per spiegare come si può migliorare l'anima di una città partirò da un racconto, un'esperienza piccola e circoscritta che può contaminare il nostro territorio. Il co-working nasce per dare in affitto una postazione, una scrivania per chi non ha un ufficio, o chi muove spesso e cerca un punto d'appoggio temporaneo. In Italia esiste un network di luoghi e di persone che si chiama co-working project ed ha 64 sedi in 34 città italiane. Accade che le persone, i co-worker, grazie a questa rete si mettano insieme per catturare del lavoro. Catturare del lavoro è che anche grazie a questo noi abbiamo conosciuto in questi due anni una cinquantina di co-worker con i quali realizziamo piccoli e grandi progetti partecipati. Abbiamo insediato un co-working tra Cordenosa e Pordenone, si chiama Cuovo di Modo, è attivo da due anni e si propone di unire le nuove professioni e i mestieri del territorio. Ma chi sono i co-worker? Un'alchimia speciale, progettisti, giornalisti, creativi, artisti, designer, artigiani e makers. Un volano di creatività tra lavoro quotidiano, eventi e innovazione che rende fertile il nostro lavoro e anche quello degli altri. E tutto questo, come potete capire, va oltre l'affitto di una scrivania. Ed ecco la nostra visione. Chi usa il Cuovo? Persone con idee e interessi affini. La rete virtuale che diventa reale. Persone che si incontrano in un luogo flessibile e pronto ad accoglierli. In cui il clima che si respira è la stessa anima delle persone che lo abitano. Proprio come una città. E allora perché fa bene alla città? Più co-working in città, più luoghi con un'anima, maggiori opportunità di lavoro. Ecco un esempio. Durante Pordenone Legge abbiamo trasferito il nostro Cuovo in un negozio del centro in cui sono entrati 15 co-worker per vendere al pubblico le loro passioni. Hanno progettato, costruito e venduto oggetti di design legati al mondo della moda. Addirittura creando in alcuni casi un prodotto condiviso. L'esperienza Uno per co-worker store ha avuto successo. Questi giovani artisti e designer hanno trovato un'opportunità di business all'interno di un co-wo temporaneo. Si può fare. Dove vengono aperte solitamente le sedi di co-working? Spazi preesistenti, sedi di società, uffici, negozio, aziende. In tutti i luoghi dove il profitto deriva da altre attività. Luoghi di lavoro dove è possibile esercitare un'attività saltuaria e spesso nomade. Requisiti che non si trovano solo nel privato, ma sono molto evidenti nel pubblico. E questo è il punto di partenza del mio ragionamento. Una sede di co-working pubblica, pensate a una scuola, o una parte dello stesso palazzo Badini in cui ci troviamo. Di fatto un luogo pubblico che offre un ufficio laboratorio temporaneo e gratuito a giovani che vogliono realizzare una loro idea di lavoro semplice e sostenibile. Vi faccio un esempio. Dei neolaureati vogliono occuparsi di inserire nei luoghi pubblici dei rilevatori di presenza e di luminosità per ottenere dei risparmi energetici. Un modello di business circoscritto e limitato nella dimensione e nel tempo. Nasce così di fatto una microimpresa e l'ambiente di co-working pubblico potrebbe sostenere interessanti contaminazioni. Penso alla cooperazione di manager in pensione, artigiani o lavoratori dell'industria a fine carriera. La formazione e la condivisione delle esperienze di altre start-up. Il racconto attraverso eventi di nuovi approcci imprenditoriali innovativi, storie quotidiane di precarietà e nuovi mestieri. La microimpresa dal canto suo per riconoscere all'amministrazione l'affitto della postazione costituisce un fondo di ore che deposita in una sorta di banca del lavoro, a disposizione per i servizi diretti o indiretti. L'amministrazione coordina l'impegno delle risorse verso attività sociali svolte negli stessi locali, oppure rende disponibile ai cittadini del quartiere alcuni servizi alla persona appaltati direttamente attraverso la banca del lavoro. Per dare forma a una visione, prima che diventi un'idea e poi progetto, bisogna seguire un processo e far sedere intorno a un tavolo tutti gli attori coinvolti. Penso per questo caso l'amministrazione, il polo tecnologico, l'unione degli industriali, artigiani e commercianti che attraverso una progettazione partecipata danno valore, visibilità e sostanza a un co-working pubblico. Esattamente come per il processo SMART, a cui abbiamo assistito in questi tre mesi. Quindi come dovrebbe essere questo progetto condiviso? Comprensibile a tutti, misurabile nei risultati, realistico per tempi e risorse investite, sensibili nei riguardi della natura, trasparente nella catena del valore, intelligente nella visione condivisa, coinvolgente per il pubblico e il privato. Grazie. 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 Grazie.